Ecco fatto, apertura di Bug e Eriot a caccia di amici, faccio io. Eccolo qua. Sistemiamo. Sceggo Bug e Eriot a caccia di amici, molto bello. Ti do io. Z la formica, Shrek. Sinbad la leggenda dei sette mari, Shrek 2. Shark Tale, Madagascar, il primo capitolo, Shrek terzo, B-movie, Kung Fu Panda, Madagascar 2. Shrek e Vissero Felici e Contenti, Il Gatto con gli Stivali, Madagascar 3, Ricercati in Europa, Baby Boss, Capitano Mutanda il Film. E Bug e Eriot, molto bello. Apro io. Chiudo io. Adesso sì. Wow, che bello. Adesso funziona. Questo sì. Fatto. Il titolo è uno. Fatto. Questo è carino. Questo è carino. Questo io lo volevo. Questo è carino. Il titolo è un titolo, è un titolo, è un titolo, è un titolo. Questo sì che era un roar, Bug. Adesso sì. Adesso sali, se no facciamo tardi. Niente da dire. La ragazza sì che ha un gran bel roar. Basta ballare uno strego così. Lo sai ballare uno strego. Dammelo così. E poi dammelo cosa. Guarda qua, guarda qua. Non dare cibo agli orsi. Che bello. Oh, parla. Non mi piace anche . Ma che bello. Tu sippi. Io stacco.